Sandro Pertini e gli anni della trasformazione, un Alexio Masistralis per l'Università del Salento sull'idea di vecchia e nuova repubblica. Presto l'elettorato di Lecce è intervenuto l'ex presidente del Consiglio dei Ministri, Giuliano Amato, uomo politico noto per la sua grande intelligenza e capacità dialettica, tanto di essere soprannominato dottor Sottile. L'occasione è stata quella di analizzare la figura storica e culturale di Sandro Pertini, non solo Pertini però nel dibattito, ma anche il caso Moro, il caso Graxi, il sovranismo e le vicende italiane che torturano l'Italia nel 2020. Momenti di riflessione sullo stato del paese, prima del crollo della prima repubblica e anche dopo, arrivando ai nostri giorni. Riflettuto ad alta voce sul sovranismo, sul populismo e quindi ha dato uno spaccato storico di ieri e di oggi. Tutti i giovani universitari hanno seguito la sua lecce magistralis e quindi è stato un momento anche di dibattito molto interessante che ha dato la possibilità non soltanto di ridisegnare la figura di Pertini in chiave Amato, ma anche di ricostruire alcuni passaggi importanti dalla storia nazionale.